Signor Bruno su cui ci sarebbe da riflettere, grazie. Va bene, grazie, va benissimo, magari torneremo a collegarci fra poco e infatti sono tantissime le presenze qui a Matera in questi giorni da parte di persone che sono venute da fuori regione per assistere a questa festa molto particolare, sicuramente unica. Stavamo parlando prima...